Dall'autore di The Hours. Salve, siete le figlie di Anne. Sono Nina. Io Constance. Io sono Lila Ross, una vecchia amica di vostra madre. Un film emozionante che colpisce il cuore. Sulle scelte che facciamo. Mamma, sono incinta. Un bambino è una cosa meravigliosa. E sull'amore che riempi le nostre vite. Che ne diresti se io ora ti chiedessi di ridere insieme a me? Per il resto della nostra vita. Il segreto di quella notte. Parti! 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 La seguirà per sempre. Sembra che stia parlando di persone del passato, credo. Potrebbero essere persone vere oppure immaginate. Non si può mai sapere. Un film con un cast straordinario. Non possiamo sapere tutto quello che ha fatto. Siamo creature misteriose, non credi? Tu non faresti una cosa per me? Proveresti a essere felice? Un amore senza tempo. Dal 24 aprile al cinema. Grazie per aver guardato il corso. La segura è la segura è la possibilità di ciò che vi è tutto più. È un attività. Ma cosa è la segura è la disciplina. Grazie a tutti.